Vuoi mangiare un biscottino? Papà te lo dà. Mangia, mangia tutto. Mastica Alessandro, t'ho detto. Mastica tutto. Soffia! Ancora? Soffia! Ancora il biscotto? Mangia, mangia. Mozzica, mozzica. Oreo. Oreo? Oreo. C'è scritto oreo? Oreo? Oreo. Leggi, leggi bene il biscotto, che c'è scritto? Oreo. Soffia, dai, mozzica, prima mozzica, prima mangia bene, adesso soffia che ritorna intero. Dai, Alessandro, soffia. Apri il bocchetto da papà. Mangia, mozzica, adesso mangia, fai muovere la bocca. Bono? Soffia, va? Ehi! Tu madre stamattina ti voleva anche pettinare.